Eccoci qua, ritrovati dopo lo stacco pubblicitario, se ne risponde parliamo di Terme con Alessandro Fabbrini che è il direttore dell'antica Perciolaia di Rapolano e da poco anche di Petriolo, lo stabilimento di Petriolo si è unito e con Marcello Pastorelli, medico universitario che ha questa bivalenza, da una parte si occupa della medicina d'urgenza ma dall'altra è anche responsabile dei progetti sulle cosiddette medicine complementari e dicevo Marcello si affidi anche alle Terme, non è che ti consiglia ai tuoi pazienti? Assolutamente sì. Per quali malattie? Cerchiamo di farlo capire a casa. Per esempio, per la maggior parte delle patologie infiammatorie del naso e dell'orecchio, per esempio la sinusite, alcuni tipi di otiti e quant'altro. Magari uno può prendere qualche antistaminico in meno se riesce a curare. Sì, senza dubbio, uno può prendere degli antistaminici in meno, in realtà quando noi somministriamo un farmaco, questo farmaco deve essere dato per il tempo necessario al dosaggio massimo per cui si possa ottenere un risultato. Ma noi non siamo mai tanto bravi se si scopre una cosa che funziona, poi non vi si dice niente e si usa lo stesso. Esatto. E quindi se io posso ottenere un risultato analogo somministrando una quantità inferiore di farmaco, questo è fondamentale perché qualunque farmaco per definizione ha degli effetti benefici, ma può avere qualche effetto collaterale o indesiderato. Quindi se io riesco a trattare un paziente con un dosaggio minore di farmaco, con lo stesso risultato, questo è un grande vantaggio per il paziente, per il metabolismo del paziente che fondamentalmente diminuisce l'impatto per trasformare il farmaco e anche per il sistema sanitario nazionale, perché fondamentalmente che che se ne dica un farmaco costa e se noi mettiamo insieme tutta la popolazione italiana se io riesco a risparmiare anche poco per ciascuno è un grosso risparmio. Poi i cosiddetti rimedi naturali sono sempre accolti favorevolmente. Esatto. Anche perché c'è sempre questa idea che a mio avviso non è correttissima, ma è comunque un'idea da tenere in considerazione, perché se c'è va comunque in qualche maniera considerata che tutto quello che è sintetico è peggiore di quello che è naturale. Non è del tutto vero. Non è del tutto vero se noi pensiamo banalmente, per esempio, che il prezzemolo, che è un… Si dice sei come il prezzemolo perché noi lo mettiamo ovunque. In verità se fai un decotto di prezzemolo passi un brutto quarto d'ora. Esatto, bisognerebbe domandarla anche a Socrate che con un decotto di cicuta che è una cugina stretta del prezzemolo, tutta sommata non è che se ne sia giovato moltissimo. Alla cicuta è della famiglia del prezzemolo. Esattamente sì. Penso un po'. Il prezzemolo, il decotto di prezzemolo, il lapiolo, era un abortivo fondamentalmente. Esatto, si usava ai tempi degli aborti clandestini. Esatto. E quegli aborti clandestini non andavano quasi mai a… Però noi si può continuare a metterlo nei nostri creati. Assolutamente sì. Sì, quindi non è che tutto quello che è naturale non fa male. No, ci sono piante verenosissime. Esatto, prendiamo i funghi per esempio. Ecco, quindi, però se io riesco a integrare… O una pianta verenosissima che nessuno si mangia, per esempio, mi pare l'eucalipto, no? Esatto. Che è terribile. Ma anche l'alloro. Anche l'alloro, ma qui anche noi lo mettiamo… Esatto, però se ne usi troppo ha un effetto tossico. L'eucalipto va bene, ma ci sono tante piante che noi pensiamo che possono essere innocue. Perché se sono piante il principio attivo è blando? No, esattamente così. Anzi, molto spesso, anche perché la medicina ufficiale utilizza molti principi che stovano nelle piante. Che stovano nelle piante. Dalla digitale, alcuni antitumorali, gli antibiotici e comunque sono dei derivati di fungo. Per cui insomma, il riceto, diciamo, sì che forse è più corretto. Esatto, fu scoperto dalle muffe, delle cantine, no? Esattamente. Quindi, ritornando a noi, le patologie otorinolaringoiatriche, con un uso abbastanza esteso, alcune patologie del sistema respiratorio, per esempio l'asma o alcune patologie infiammatorie croniche dell'asma, per esempio la BCO e quant'altro. C'è la bronchite cronica costruttiva. Se fumate ce l'avete di sicuro. Esattamente, fumatori, oppure patologie lavorative, quei pazienti, quei lavoratori che per molto tempo hanno lavorato in ambienti insalubri, per esempio i mugnai, piuttosto che non i verniciatori o i mugratori, no? Hanno respirato pochi ore sottili. I mugnai ce n'è pochi ore. Poi c'è tutte le malattie arteromatiche, fanghi, dermatologi. Senza dubbio, una buona parte delle malattie reumatiche, tutte le artriti, tutte le artriti dolorose, piuttosto che non le artriti reumatoide per certi versi, con un po' di attenzione quella. Oppure le malattie dermatologiche, per esempio credo che l'azienda, come diceva prima Sandro, abbia intenzione di mettere su un percorso per quanto riguarda la psoriasi. No, ma anche le malattie autoimmuni si dicevi. Su alcuni tipi di malattie autoimmuni è senza dubbio. L'UPS viene a stare attenti, può scatenare qualcosa. L'impatto è eccessivo su alcuni tipi di lesioni lupiche, per esempio l'aritema farfalla. Lupus, volgarmente si chiama anche lupus. Lupus è come... Non è il fuoco di Sant'Antonio. No, il fuoco di Sant'Antonio è un herpes. È un herpes. Il fuoco di Sant'Antonio è una malattia virale, che è quindi una malattia acuta. Invece il lupus è un'autoimmune. È invece una malattia autoimmune, si chiama lupus e non ha un altro nome, come la sclerodermia, si chiama sclerodermia e non ha un altro nome. Anzi, in realtà come nomi sono dei semantemi che fanno abbastanza paura. In realtà non tutte le malattie autoimmuni sono malattie che si esprimono nel paziente nella stessa maniera. Voglio dire che hanno un andamento molto bizzarro. Ha un impatto molto diverso da paziente a paziente. Ci sono in alcuni pazienti in cui hanno un andamento assolutamente devastante e ingravescente. Ci sono pazienti che magari hanno una sclerodermia cutanea, convivono tutta la vita e non fanno nemmeno terapia. Alessandro, volevo dire scusami, una cosa sulla psoriasi, l'ha citata prima Marcello, perché proprio nello stabilimento di Petriolo è stato avviato da qualche anno una sperimentazione sulle conseguenze che ha la cura attraverso fanghi e le acque di Petriolo, che hanno quelle determinate caratteristiche, sulla psoriasi. Quelle di Petriolo in particolare. Stiamo lavorando su quello insieme anche alla regione toscana per vedere quali sono poi gli effetti e devo dire che siamo arrivati ormai a trattare più di 200 pazienti. La psoriasi fa bene anche il mare. La psoriasi non fa tanto bene e male quanto la luce del sole. La luce del sole. Stiamo avendo dei buoni risultati e quindi tra un po' cercheremo di capire. Ora si è parlato un quarto d'ora di malattie anche non tanto troppo simpatiche, ma le terme, appunto si diceva prima, hanno un aspetto curativo importante, Marcello ce l'ha testimoniato, ma è anche un aspetto sociale ludico, è legato al benessere, è legato alla qualità della vita, è legato al nuovo concetto che diceva prima Marcello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non è il benessere psicofisico, non solo l'assenza di malattia, è importante e quindi le terme da questo punto di vista sono secondo me perfette. La forma preventiva contro le malattie. Più uno è rilassato e sta bene e più difficilmente ovviamente contrae delle malattie. Esatto, questo è il tema. La più grossa farmacia che abbiamo a disposizione siamo noi stessi. Esatto, infatti secondo me, secondo noi termalisti, insomma le terme hanno veramente una valenza importante dal punto di vista anche proprio della prevenzione della malattia e in più, come dici te, la parte psicofisica, dedicarsi del tempo, perché poi alla fine oggi come oggi è la cosa più difficile trovare del tempo, appunto, hai foccato, io penso sono due anni e non riesco a fare un bagno, siamo un po' tutti calzolai noi che lavoriamo nel mondo delle terme, però devo dire quando mi affaccio poi, giro intorno nel nostro parco piscine vedo questa gente, queste persone stanno veramente bene, si vede proprio dall'aspetto, dal viso, dal, è un senso di, è come se uno si facesse un regalo, mi prendo mezza giornata, mi prendo quattro ore, mi rilasso e sono quelle quattro ore che ti ricaricano in una vita. Quattro ore, qui si sta nell'acqua a un quarto d'ora, venti minuti, si esce, si asciuga più o meno, più o meno, e quindi poi riparti ricaricato, stai meglio. Quella temperatura lì, che è quasi temperatura corporea. L'antica perciolaia sono 39 gradi e direi è perfetta come temperatura, per l'oro è 45 e è un po' troppo calda da questo punto di vista, non ora, chiaramente infatti nei mesi invernali è meravigliosa, nei mesi estivi è un po' più difficile da usare, per questo la difficoltà, quando si parla di terme si parla di qualche cosa che caratterizza ogni stabilimento, tu dicevi come fai a consigliare uno stabilimento, una cura piuttosto di un'altra? Sempre questa scelta si fa partendo dalla tipologia delle acque che uno ha, le nostre acque non sono uguali a quelle di Saturnia, non sono uguali a quelle di Abano-Terme. Ecco Marcello, dov'è il potere curativo delle terme? In che cosa consiste? La domanda è un po' difficile da fare, poi devi rispondere in poco tempo, diciamo così che come per qualunque farmaco il principio attivo, nel caso delle terme la natura delle acque agisce in maniera diversa sulle varie patologie, cioè voglio dire se uno ha una patologia ginecologica deve utilizzare un certo tipo di acqua piuttosto che non un'altra, poi si dividono due grandi famiglie, la più alcalina e una più basica? No, no, la calina basica è una ma ci sono tanti ceppi, ci sono le pomosalzoiodi che ci sono le radiative, i carbonato calci, le solfure bicarbonato calci, sono tantissime le tipologie di acque termali e ognuna caratterizza lo stabilimento termale, è una cosa… Poi il calore anche, la forma terapeutica. Ci sono ipotermali, ipertermali, ci sono… Il calore è il fatto che comunque è un trattamento che interessa tutta la superficie corporea. Ah, quindi è una grossa superficie di contatto. Esatto, una grossa superficie di contatto. Sì, che poi la differenza, scusami, da fare i componenti chimico-fisici che sono sciolti all'interno di quelle acque. Uno non ci pensa mai, ma se noi prendessimo la nostra pelle e la distendessimo, mi pare intorno ai 7 metri quadrati. Quindi voglio dire, è metà stanza. Che volevo dire, quando noi parliamo di benessere, ritornando a quello che si diceva prima, che è un concetto così abbastanza astratto, se vogliamo. In realtà il benessere dal punto di vista medio può essere ben inquadrato in alcune modificazioni neuro-ormonali che evidentemente provocano un vantaggio e uno svantaggio. È noto, hanno fatto tanti anni fa… Una formula chimica il benessere. Tanti anni fa hanno fatto uno studio sulla personalità A e B nei pazienti… A e B intendo dire era una classificazione. Cioè gli A erano quelli che rispondevano in maniera ottimistica alla malattia, i B erano quelli che rispondevano in maniera… Di schieri mezzo piano e mezzo vuoto, come uno lo vede. Esatto, quanto riguarda le cardiopatie e si vedeva che il rischio di recidiva era sicuramente più importante nei pazienti con la personalità B piuttosto che con la personalità A. Questo ovviamente è un concetto molto antico. Anche perché ora benessere invece sta diventando una cura parola di marketing, spesso e volentieri totalmente vuota, invece alle termine secondo me ha un valore che è quello che stava dicendo ora Marcello. Quindi pensare positivo conviene, la strategia è conveniente. Esatto, conviene anche perché si attivano tutta una serie di risposte neurormoniali importanti che incidono anche su quello che è il sistema immunitario. Per cui vuol dire che ovviamente in senso lato un paziente che è in buon equilibrio con se stesso, in generale ha mala di meno per certe malattie piuttosto che non altre, oppure per le malattie autoimmuni. È certo che un paziente che è depresso per esempio, che ha qualche patologia di tipo psicologico o psichiatrico, si cura in maniera peggiore perché risponde peggio a certi tipi di farmaci. Noi abbiamo poi anche delle prove fisiche, ci sono dei clienti che vengono quotidianamente, perché magari sono in pensione, hanno l'effetto cocoon, passano gli anni e sono identici, stanno una meraviglia. Lo dico perché è proprio lampante questa possibilità, è chiaro che ci vuole tempo, tutti i giorni loro stanno lì. Te lo vedi tutti i giorni, ti rendi, passano gli anni. Vedo che passano gli anni e sono identici. Ti dicevo che sono qui dietro la schivania, sto sempre al telefono. Tanta fatica, tanto telefono, capelli bianchi e via, andare. Senti Alessandro, ci manca poco tempo, però ti volevo chiedere, l'azienda sta bene, il bilancio va bene, va bene, ha un trend positivo da tanti anni, so che la provincia però l'ha messa in vendita perché la deve mettere in vendita, giusto? Sì, dunque gli enti con la legge Madia, è la legge Madia che di fatto è per la Madia che chiede alle amministrazioni pubbliche di individuare quali sono le partecipate strategiche all'interno delle società partecipate dal pubblico. Non avendo più la funzione dello sviluppo economico, la provincia sicuramente, che è poi tra l'altro l'azionista di maggioranza relativa, è in obbligo nella dismissione. Per cui stiamo vivendo un po' questa fase in cui credo all'interno di questo anno dovrebbe uscire un bando pubblico per l'alienazione delle quote pubbliche. La provincia deve vendere per forza, però nel capitale sociale mi pare che ci siano anche i comuni. Ci sono molti comuni che hanno scelto anche per motivi propri, hanno fatto discussioni in Consiglio Comunale anche loro di fare l'allenazione delle quote. A voi gli costate a questi comuni, gli chiedete soldi? Noi, anzi noi li abbiamo dati, perché avendo il bilancio inutile abbiamo anche distribuito dei dividendi e non abbiamo mai chiesto un centesimo alle amministrazioni. Noi abbiamo valorizzato, anzi le loro azioni, le loro quote azionari, abbiamo valorizzato un patrimonio con gli investimenti e con i bilanci che come dicevete a 2003 oggi sono tutti in attivo. Questo lo posso confermare perché fino a qualche tempo fa facevo parte del Consiglio Comunale d'Asciano, che è un socio delle terme e ne aveva vantaggio. Se votavi ti vorresti votato di tenerle? Assolutamente sì. Senti Alessandro, non ha perché vogliono vendere. Questo bisogna chiederlo ovviamente a ciascun sindaco. Io credo che la nostra azienda sia un'azienda che non solo dà benessere a chi la frequenta, ma attraverso anche gli investimenti, attraverso il lavoro ha fatto sì che è diventato un po' un volano in quei territori, anche per esempio per il turismo. Sono nate tantissime strutture agrituristiche. La Polano è rifiorita direi. La Polano sta benissimo da questo punto di vista, sono nate tantissime strutture, tantissimi agriturismi. E' un luogo bellissimo, è un posto industriale meraviglioso, è chiaro che come tutte le cose ci vogliono soldi, ci vogliono investimenti, però credo che delle aziende sane riescano a dare anche sul territorio, a riversare comunque investimenti, quindi denari ad attivare turismo, ad attivare la famosa parola del sistema del turismo integrato, dove un po' le eccellenze si incontrano. Le terme sono un'eccellenza nel nostro territorio e come tale si sono inserite benissimo all'interno di tutto quello che abbiamo di bello e tanto. Siamo arrivati alla fine di questa prima parte, noi ci vediamo dopo con Luca Furiozzi. Abbiamo recuperato un po' di politica per parlare di un ex candidato sindaco, perché come ci racconteranno 5 Stelle non sarà delle elezioni. Io però ringrazio i nostri ospiti che ci hanno raccontato delle terme, dei loro effetti benefici, ma anche di quanto è piacevole andarci. E quindi magari, che ne so, invece di andare delle volte al mare, se deve fare ore di macchina, per andare per tornare in quella disperata Sena Grosseto, magari, che ne so, ci troviamo all'antica personale a Petriola, a mezza strada, ci pieghiamo nello tempo e stiamo anche meglio. Anche perché la fila non migliora il benessere. È vero, è vero. Ci vediamo fra poco. Grazie.